Ben trovata soprattutto Annunzia Catalfo, Ministro per il lavoro e le politiche sociali. Eccola qua Ministro, ben trovata. Allora, l'ho annunciata, ho detto che del decreto rilancio di cui abbiamo parlato in apertura per cercare di raccontare quelli che sono i provvedimenti principali, sono tantissimi, quindi non è facile un decreto che impatta per 155 miliardi di euro, vale due finanziarie, quindi insomma insieme ovviamente ci volevamo concentrare soprattutto su tutti quei provvedimenti che concernono il lavoro e le politiche sociali. 10 miliardi per gli ammortizzatori, 4,5 per professionisti e stagionali, reddito di emergenza. Ministro, a suo avviso quali sono, e ne ho citati solo alcuni, quali sono quelli che secondo lei potranno veramente fare la differenza e insomma che vale la pena sottolineare? Bene, grazie, ben trovati a tutti. Ovviamente sono tutte le misure che riguardano il pacchetto lavoro molto importanti, aiutano e tutelano tutti i lavoratori e tutti, anche gli autonomi, i liberi professionisti, quindi cercando di non lasciare nessuno indietro, quindi tutelare tutti, sono 26 miliardi le misure che, appunto, le risorse che coprono le misure del pacchetto lavoro, sono tutte ovviamente importanti, 16 miliardi sulla cassa integrazione, ci sono nuove misure come il reddito di emergenza che risponde anche al grido dell'arma e dei sindaci, dell'Anci che ci ha appunto richiesto un'attenzione particolare a tutte quelle famiglie che avevano difficoltà dovute appunto al periodo dell'emergenza sanitaria e che non riuscivano a portare il cibo in tavola ai loro figli e nelle loro case, quindi un reddito, una misura a tempo di due mesi che però interviene e aiuta prontamente queste famiglie, poi vi è come misura nuova rispetto al decreto precedente la proroga della Naspi a tutti e della Disco, a tutti coloro i quali finivano ai mesi di marzo e di aprile, quindi dare la possibilità, dare uno sostegno in più, perché ovviamente in quei mesi è stato difficile cercare lavoro, quasi impossibile in quanto tutte le attività erano chiuse, c'è un rifinanziamento del congedo parentale che appunto rifinanzia la misura per altri 15 giorni rispetto a quelli previsti dal precedente decreto del Curitalia e nel caso in cui le famiglie non ne hanno soffruito si somma al congedo precedente, quindi è pari a 30 giorni, a questo si collega il bonus babysitter che con lo stesso meccanismo è pari a 600 euro, elevato a 1200 nel caso le famiglie non ne abbiano soffruito, ma che si allarga, quindi la novità è questa, quindi l'utilizzo, la spesa può essere fatta anche per servizi all'infanzia o per spenderlo per i centri estivi, quindi si dà una maggiore possibilità a tutte le famiglie e lavoratori italiani che avendo le scuole chiuse in questo momento e poi insomma i centri per l'infanzia, i servizi per l'infanzia stiamo lavorando, verranno aperti, quindi stiamo lavorando insieme al Ministro Bonetti, al Ministro Spotafora, al Ministro Azzolina per fare appunto delle linee guida, per aprire le insicurezze, dare la possibilità di spenderli per questo obiettivo, quindi servizi per l'infanzia o centri estivi. Allora, ricordiamo congiunti parentali altri 15 giorni fino al 31 luglio al 50% possono soffruire sia genitori, sia mamme che papà, quindi appello ad entrambi i genitori. Ministro, un'altra cosa le volevo chiedere, c'è anche un provvedimento che riguarda la rimodulazione dell'orario di lavoro di cui forse vale la pena anche parlare per capire meglio di che si tratta, perché non è nei ditoloni ma può essere uno strumento importante. Sì, è un nuovo strumento che ho pensato perché finora si è molto investito su politiche e su strumenti di politica passiva la stessa cassa integrazione pone il lavoratore a casa, quindi dà uno sostegno al reddito ma il lavoratore di fatto è a casa. Invece questo è uno strumento di politica attiva studiato anche in considerazione di questa emergenza ma che potrebbe essere utilizzato anche in futuro, che punta molto sulla formazione e che nel caso in cui il lavoratore, quindi l'azienda riapre, il lavoratore ritorna al lavoro ma non può essere impiegato in questo frangente per tutto l'orario di lavoro che ha previsto per contratto, la rimanente parte viene inserita in un programma di formazione continua che è dando valore aggiunto al lavoratore e il lavoro aggiunto anche all'impresa perché avrà dopo un po' di tempo un lavoratore più competitivo, più formato e quindi tutela ambe due, impresa e lavoratore. Ministro, allora alla luce di quanto avete già fatto e di quanto ha funzionato e ha funzionato o meno, avete introdotto anche dei correttivi, cassa integrazione in deroga, le competenze, lì si era creata una strozzatura nell'erogazione di questa cassa integrazione, le competenze a questo punto sono passate dalle regioni all'Inps, almeno in parte, secondo lei questo può essere il percorso giusto e sarà lo strumento sufficiente a far sì che poi questi denari arriveranno? E poi questa è la preoccupazione, sono stati stanziati dei fondi veramente importanti, poi però siamo sicuri che arriveranno a destinazione anche in tempi rapidi, no Ministro? Sì, i denari arriveranno a destinazione questo al 100%, la questione che noi siamo partiti, tant'è che io ancora prima dell'emergenza sanitaria e poi dei vari decreti che noi abbiamo messo in atto per tutelare tutti i lavoratori italiani, avevo già detto che era necessaria una riforma degli ammortizzatori sociali, perché in Italia abbiamo un sistema molto frammentato, farraginoso, che prevede diversi strumenti per tutte le diverse tipologie dei lavoratori, parliamo di circa 22 strumenti differenti, ed è chiaro che va fatta una riforma in questo senso, fare una riforma in itinere era praticamente impossibile, però velocizzare uno strumento che era già da sempre risaputo e si sa anche dai tempi precedenti, che ci metteva da 3 a 5 mesi per poi arrivare direttamente al lavoratore, allora noi siamo intervenuti in questa fase cercando di semplificare in modo importante tutte le procedure, tant'è che la cassa integrazione ordinaria è stata già pagata, quindi quello autorizzato è stato già pagato all'85% dei lavoratori, il FIS sta procedendo e stiamo velocizzando anche sul FIS, quindi la nuova procedura coinvolgerà anche il Fondo di integrazione salariale, la deroga richiedeva una serie di procedure che coinvolgevano le regioni, che accorciava ancora di più i tempi, per cui abbiamo studiato una nuova procedura, e quindi entro 30 giorni il datore di lavoro potrà fare domanda direttamente all'Inps, mandando i dati del lavoratore che mette in cassa integrazione, e così l'Inps entro 15 giorni potrà erogare anche sul progresso il 40% della quota da destinare, che verrà poi saldata con la presentazione da parte dell'azienda di un modello che si chiama SR41, ma in termini molto semplici per farlo comprendere a tutti, è un modello che contiene i dati del lavoratore, cioè il nome, il cognome, il codice IBAN e il numero di ore che per cui è stato messo in cassa integrazione, e quindi a saldo poi appunto l'Inps con cui era tutto con questo modello. In questo modo abbiamo e velocizzeremo tutte le procedure, ciò non toglie che questo sistema ha necessità di una reale riforma degli ammortizzatori sociali, sulla quale bisogna mettere subito mano. Ministro, io ho già sforato però un'ultima domanda velocissima, anche se richiederebbe tutto un altro intervento, gliela voglio fare. Questo decreto deve affrontare l'emergenza, ma il lavoro con questa emergenza è cambiato, credo, profondamente. Qual è quello che lei si aspetta, non dico nel futuro, ma anche a settembre, diciamo? Cioè il lavoro di domani che forse è diventato già il lavoro di oggi? Sì, saranno sicuramente delle trasformazioni del mercato del lavoro e di questo ne dobbiamo essere consapevoli con gli strumenti che noi abbiamo messo in campo nel decreto Curitalia. in questo decreto lasciamo la fotografia in qualche modo, quindi con la cassa integrazione, così come era o comunque con non dei grossi cambiamenti rispetto al 23 febbraio. È ovvio che va fatto uno studio ponderato di quello che avviene nel mercato del lavoro e per questo ho istituito in questo decreto un osservatorio del mercato del lavoro permanente in modo tale che si studi l'evoluzione del mercato e si intervenga non dopo, ma in anticipo. Allora Ministro, la ringrazio veramente per essere intervenuta, le auguro buon lavoro e a presto. Grazie, grazie.